E' stata consegnata oggi una nuova autovettura all'Associazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio a presentare l'iniziativa il consigliere provinciale Enzo Dagata che si è detto orgoglioso di tale evento. Oggi abbiamo presentato al Presidente della Provincia Onorevole Giuseppe Castiglione il nuovo mezzo concesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile all'Associazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio, è un Fiat Ducato di 9 posti che servirà per le emergenze, per spostarsi meglio i membri dell'Associazione nel momento in cui dovessero verificarsi delle emergenze o per i compiti di istituto. L'Associazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio dal 1995 è anche associazione di volontariato e protezione civile. In questo senso ha svolto ed è stata presente in tutte le emergenze e ha avuto importante riconoscimento, specie nel caso del terramoto dell'Abruzzo o degli eventi tragici del Messinese. A questa associazione va il plauso e il ringraziamento di tutta la nostra comunità provinciale, il Presidente ci teneva a ringraziarli personalmente. Per questo stamattina siamo qua a inaugurare questo nuovo mezzo che va a completare la dotazione di cui dispone l'Associazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio. Io ringrazio l'Associazione per quanto farà, per l'interesse collettivo e per aiutare quanti sono in stato di necessità. Quando ci spostiamo, anziché partire con una macchina 3-4 persone, con questo partiremo 9 persone. E se c'è da aiutare anche dove si arriva delle persone da trasportare o meno, è il nostro compito farlo. E ci aiuta a essere più sbrigativi, un mezzo più grande e sempre comodo per il trasporto anche delle persone.